20 minuti alla pausa scena del side event, sono ancora in 7 in gara, siamo arrivati a livello numero 23 per i bui di 10.000-20.000 ante 2.000, sono vicina al chip leader che è Valotto Simone, Simone una battuta al volo e vorrei vedere il tuo portafortuna, che cos'è? questo è un pesce maiale che mi hanno regalato prima di questo torneo e ha fatto compagnia praticamente a tutti e ti ha portato fortuna perché sei il chip leader decisamente, mi ha regalato un mio amico che ha fatto questo torneo che è stato eliminato anche per cui ha portato fortuna a tutti e due e allora in bocca al lupo visto che ci siamo e grazie crepi noi ci vediamo qui dopo la pappa e vi aggiornerò su quello che accade, vi aspetto ciao 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 ciao